Ciao a tutti, io sono Nicola Pesaresi e oggi parlerò un pochino di quello che faccio e allora dopo la sigla Ciao a tutti, mi chiamo Nicola Pesaresi, come penso che saprete e oggi voglio parlare un pochino di quello che sapete Che c'è? Che Nicola che si fa? Sto a fare un video, lo vedo? Eh, per favore, io? Voglio parlare un pochino di me Ma chissà che se ne frega di te Nicola, che se ne frega di quello che fai tu? Sì ho capito, per una volta voglio parlare di quello che faccio io Voglio parlare della mia carriera da ventriloquo Che c'è? Voglio parlare dei miei successi, Isolta per favore Corca miseria, ne creda niente a nessun luogo? Sì, vabbè, me lo lasci, fa? Io lo lascio qua, credo che se c'è tre visualizzazioni e qualcuno vuoi Ah, vabbè, dai, facciamo così, poi lo vediamo quante visualizzazioni facciamo Ok, tu da solo, se c'è schifo tu da solo, se li fai tante, grazie a questo questo che c'è sto anch'io Mi piace così, vabbè, dai, fammela ora, eh Ok, non c'è, questo questo si credente, credente se c'è le cose da solo, poi ci c'è, non c'è la mia dita Dai, dai, vai Ah, scusate, ricomincio Ciao a tutti, io sono Nicola Pesaresi e oggi vi voglio parlare Oh, ma che è sta cosa? Che miseria Cesare, ciao! Oh, ciao Nicola che stai qua adesso qui? Sto a fare un video E che video è? Sto a raccontare un po' di quello che faccio Ah, interessante Ah, dici sul serio? No, te sto prendendo il culo Ah, ho capito Scusa, me la fate finita, vai via, vai, 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 fammi lavorare Ok, vuoi una capocciata? No, 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 scusa, scusa, c'hai ragione, c'hai ragione Per favore, guarda, oh, t'ho comprato le birre Orca miseria, ci avete un uomo Ok, beh, devo ricominciare Vabbè, scusate eh Ciao a tutti, mi chiamo Nicola Pesaresi e sono un ventrilogo Oggi voglio che... che c'è ancora? Buonasera a tutti Non c'è, non devi farlo del video, lo devo fare io Oh, sto cercando una cosa Che stavi cercando? Lo scartito della mia nuova canzone che ho scritto questi giorni Sì Hai scritto la canzone? Sì E che canzone è? Sì, Chiana, moriremo tutti grazie a Dios C'ha miseria Che cosa ti affeta, zitto Perché non ti piace? Non è che non mi piace, carla, beh, è che... Cioè, stiamo tutti a pensare a questa cosa Guardiamo avanti Ah, l'ha scritto a uno che guarda avanti Oh, guarda avanti, quindi? Adocco con i rossi quando sarà tutto finito Meno male E come si intitola? Moriremo di stenti? Mannaggia la miseria Non ti piace? Sei ottimista tu però, eh? Molto sì Vabbè, no, non l'ho visto comunque sto spartito Carca miseria, dove l'ho connesso? Vedi? La coccalisse sta arrivando Che avvolga lì? Te sta zitto Eh, scusa, carla, beh, mi fai, fai Sto a lavorare Sto a cercare di girare un video Che fai? Giro? Ma non gira il video in quel senso Ma scusa Vai, 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 per favore Vai con gli altri Ricomincio Buonasera a tutti Sono Nicola Pesaresi Oggi voglio parlare un pochino Non ne posso più Io nito Su, 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 su Chi sei? Sono un DJ Chi sei? Sono io nito Sono un DJ Chi sei? Sono un DJ 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 Ascolta Eh, vabbè, lui si chiama Ionito Si, sono un ornitorinco Ionito Ecco E l'ornitorinco Ionito Vabbè, eh, per favore Stavo cercando di fare Stavo cercando di fare Stavo cercando di fare Stavo cercando di fare Oh! 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 Mi fai girare il video? Su Ecco, per favore vai a cantare un'altra parte Ok 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 ok. Sì tu per favore. Ricomincio. Ciao a tutti Nicola Pesaresi e sono un ventrilogo e venti... Orca miseria. Ehi, e chi sono un asteroide? Che asteroide? Era coganato che è caduto un astero... Oh cacchio, sta registrando? Sì. Cancella tutto. No, che cancella tutto. Tanto lo sappiamo che stai scherzando. stai scherzando vero si si era carina come come gattuta vero si ma mica d'anno va beh ascolta junior per favore sto cercando di fare un video ecco allora lasciami fa lasciami fa un attimino poi tu c'erai il tuo spazio c'erai il tuo tempo è un altro un altro momento ok allora saluta a tutti ciao a tutti ecco per favore bene buonasera a tutti già ricomincio ciao a tutti io sono nicola e non gliela faccio più basta faccio il ventrilogo e vivere in questo caos è veramente una tragedia aiutatemi salvatemi ma intanto se volete se vi è piaciuto quello che faccio iscrivetevi al canale mettete like condividete tutto quello che vi pare ciao a tutti da nicola pesaresi ciao a tutti 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 questa è la mia vita ciao